Musica Venerdì 5 agosto, buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV in diretta a 7 e mezzo anche oggi per la lettura dei giornali e cominciamo subito dal santo di oggi il santo di oggi è in realtà la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma è una basilica bellissima, straordinaria se capitate da quelle parti fateci un salto perché è davvero incredibilmente bella la tradizione dice tra l'altro che è conservata la mangiatoia nella quale venne adagiato Gesù dopo la nascita il sole sorto alle 6, tramonterà alle 20 e 28 il tempo comincia oggi, soprattutto nel pomeriggio e nella sera comincia a cambiare questo tempo comincia ad arrivare il fresco ma soprattutto comincia ad arrivare la pioggia tanta pioggia che cadrà anche sulla nostra regione dal pomeriggio rovescio temporali sparsi localmente di forte intensità i venti sono al mattino di brezza tesa sud occidentali al pomeriggio invece di direzione variabile con raffiche in caso di temporale dunque comincerà nel corso del pomeriggio questo peggioramento che durerà tutta la notte fino a domani sabato quando avremo cielo nuvoloso o molto nuvoloso con parziale attenuazione solo nel corso del pomeriggio sui settori centro-settentrionali della regione durante la mattinata avremo precipitazioni diffuse anche con accumulate localmente abbondanti sui settori collinari e montani al pomeriggio invece i fenomeni andranno man mano ad esaurirsi sui settori nord della regione e continuerà a piovere invece sulla parte meridionale delle marche per quanto riguarda la giornata di domenica il tempo invece migliore decisamente avremo un cielo sereno poco nuvoloso le temperature sono in ulteriore diminuzione quelle minime le massime invece sono in ripresa lunedì, martedì saranno giorni comunque caratterizzati dal bel tempo la pagina di Fano del Corriere Adriatico rubava sotto l'ombrellone arrestato un minorenne il ragazzo era già finito nei guai nei mesi scorsi scoperto un tesoretto in casa autore di diversi colpi con l'aiuto di Coetane questa volta è stato incastrato in compagnia di un senegalese gli uomini di Seretti il dirigente del commisariato di Fano gli avevano attribuito furti con studenti in due diverse cittadine ed eccoli qua gli agenti del commisariato al lavoro in spiaggia un ciclista invece è stato tamponato da un'auto è grave l'impatto sulla Flaminia tra Rosciano e Cucurano il 43enne fanese ciclista che è stato tamponato da un 37enne di Cartoceto con la sua lancia Y è finito a terra è stato soccorso dal 118 è portato immediatamente al San Salvatore di Pesaro vedete qua la fotografia del luogo la bicicletta sull'asfalto con la polizia municipale sul posto e ancora Marchegiani a muso duro concordato ogni evento il sindaco replica ai commercianti fanesi che l'accusano di non averli coinvolti in riferimento alle critiche avanzate dalla Confcommercio dopo che i responsabili dell'associazione hanno incontrato il sindaco Seri sulla situazione del turismo in generale e sulle manifestazioni lamentando un scarso coinvolgimento l'assessore Marchegiani interviene precisando appunto che tutti gli eventi sono stati concordati decisioni e proposte sono passate dalle riunioni della consulta ciclabile in via l'Adriatico lodi e critiche dubbiosi i negozianti soddisfatti invece gli ambientalisti e i cicloturisti per la festa del mare torna anche il corteo dei pescatori fine della protesta per le condizioni del porto quattro canton i quattro cantoni che esordio le connotazioni spazio-temporali dei quartieri hanno colto nel segno grande pubblico e applausi per le iniziative tra musica storia e cucina ecco qua la fotografia di uno dei quattro cantoni questo è quello di Porta Gialla così scrive nella didascalia il Correo Adriatico la nuova veste voluta da Claudio Pacifici ha ridato smalto ad una manifestazione che in realtà forse era Porta Giulia non so Porta Gialla ma forse Porta Giulia siamo qui nei pressi del Pincio Porta Gialla non l'ho mai sentito ma comunque vabbè poi sai con l'estro di Pacifici magari Porta Giulia è diventata Porta Gialla non si sa vabbè comunque lì c'è scritto così ma là c'era anche Porta Giulia una volta Adriatic Challenger parliamo di tennis con i campioni di domani presentato il torneo di tennis giovani talenti 50 mila dollari di premi che è una bella cifra domani mattina con gli incontri del tabellone di qualificazione l'Adriatic Challenger questo torneo internazionale da 50 mila dollari vivrà e terrà viva l'attenzione degli appassionati fino al 14 di agosto la pagina di Fossombrone invece del Corriere Adriatico è sulla sanità il grido sull'assistenza sociale scusate sul lavoro il grido di Fossombrone Carpegni e Cagli l'assistenza sociale ridotta a un voucher l'allarme di CGL Cisle rischi legati alla precarietà degli operatori e alle basse retribuzioni alle famiglie dei buoni servizio sperimentazione che sarà comunque monitorata mentre Dagabic è preso il borseggiatore che stazionava davanti al supermercato è stato bloccato dai carabinieri la pagina di primo piano delle marche invece parla di Matteo Ricci il sindaco di Pesaro che è in pole position per diventare il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia cioè il presidente di tutti i comuni d'Italia Ricci dalle marche a sindaco d'Italia questo è il titolo parla bene di lui anche Giorgio Gori che è il sindaco di Bergamo con un trascorso in televisione lo ricorderete a Canale 5 e poi a Magnolia per Lanci dice Giorgio Gori è la scelta migliore il pesarese favorito per il dopo Fassino il nuovo presidente avrà compiti delicati e complessi il 12 ottobre dell'assemblea nazionale dovrà decidere e troveremo dicono una sintesi condivisa chi è Matteo Ricci lo diciamo magari per i turisti che ci stanno seguendo questa mattina Matteo Ricci è nato a Pesaro il 18 luglio del 1974 è stato presidente della provincia di Perso Rubino fino al 23 giugno del 2014 oggi è sindaco di Pesaro vicepresidente del Partito Democratico e dal novembre 2014 è stato eletto nel direttivo del Lanci di cui è vicepresidente con delega alle riforme è sposato con Eleonore padre di Camilla e di Giovanni e adesso andiamo sulla pagina della Valle del Cesano la turista disabile la vedete in questa fotografia ringrazia Marotta vacanze per tutti segno di civiltà l'hotel era attrezzato il bagnino si è adeguato e lei parla di un'accoglienza difficile da trovare in altri posti quindi siccome si parla sempre male quando ci sono le brutte cose le brutte cose che non vanno si è sempre lì pronti a spiattellarlo sulla stampa quando le cose vanno bene bisogna altrettanto ringraziare e farlo sapere in giro e allora ecco che cosa ha fatto Sofia la gioia di Sofia spesso riceviamo risposte non adeguate qui è stato davvero un'altra cosa e questo è il miglior spot penso per per una per una località balneare anche da questo punto di vista Ragnetti dice spese ingenti per il gestore della spiaggia ma è un investimento non è solo una spesa voragine quella di Orciano vedete in questa immagine in questa fotografia il disastro ancora lì questa frana che ha diviso il paese in due il sindaco Bacchiocchi parla di un percorso diverso ma rispetteremo le date annunciate mentre nella foto c'è Daniele Tagliolini che è il presidente della provincia di Pesorbino ci sono timori sui tempi ma Tagliolini rassicura dice non c'è nessun problema il rinvio del bilancio provinciale spaventa ma la provincia rassicura i cittadini no all'ospedale unico sì invece a quello di Pergola a San Lorenzo un voto quasi unanime contro la riforma sanitaria da Senigallia invece io ex questore stregato dalla magia del Giamborì Italo d'Angelo in look hawaiano travolto dalle atmosfere degli anni 50 è uno dei periodi più belli del secolo scorso Italo d'Angelo è stato questore della provincia di Pesaro e Urbino apriamo adesso il resto di Carlino la pagina di Fano topi d'ombrellone presi due diciassettenni avevano rubato uno zaino al mare a casa di uno anche bici e forbici sotto ciclista investito sfonda il parabrezza con la testa il Santa Croce fa il pieno di servizi con Brest Unic e la pneumologia Fano inaugura la struttura destinata al senologo Cesare Magalotti mentre ci sono grandi manovre estive l'attivissima Maria Capalbo valorizza il presidio fanese ma non ottiene i consensi sperati sull'ospedale unico Mustafa Mustafa l'aspirante jihadista in cella sputa e promette attentati un marocchino che era inchiuso nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro si è radicalizzato e attendere di far parte dell'ISIS di entrare in azione il recluso a una condanna definitiva da scontare fino al 2035 poi lo attendono altri 15 anni in Francia ieri il procuratore lo ha convocato ma inutilmente l'asfalto nuovo è già squarciato invece siamo sempre a Fano sul Carlino perplessità e rabbia in via Girolamo da Fano i residenti parlano di spreco chiaramente quando vedono queste cose il comune ha appena rifatto il manto stradale ma ora è arrivata l'Enel che ha cominciato di nuovo a rompere bucare quindi siamo punto a capo l'asfalto appena fatto è come ritornerà ad essere tutto altalenante noi avevamo avvisato tutti dell'inizio dei lavori dice Cristian Fanesi compresa l'azienda dell'energia però tant'è che insomma questi hanno rifatto hanno dovuto rompere di nuovo l'asfalto referendum su Marche Nord si potrà votare insieme alle riforme il consiglio comunale approva le modifiche allo statuto consentendo l'abbinamento mentre il pianeta scuola anche se siamo in pieno agosto trova spazio per pubblicare le fotografie dei bravissimi del liceo Torelli a Fano sono 22 i migliori diplomati allo scientifico Torelli di Fano 14 hanno studiato qui in città e 8 a Pergola e il sono tutti tutta gente che ha preso 100 e qualcuno anche 100 e lode ebbene tutti con nome cognome e fotografia meritatissima complimenti andiamo sull'ultima pagina del resto del Carlino eccolo qua l'appuntamento del fine settimana a Fano con i sapori le mostre e lo sport il pesce cotto come una volta tornano i foconi cosa sono i foconi sono servono per cucinare il pesce e si potrà fare davvero come un tempo nella banchina del porto per la festa del mare è stata rispolverata un'antica tradizione che poi sai per motivi igienici la Asur e quant'altro è stata vietata però piano 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 stiamo tornando all'antica che quando uno dice che si stava meglio quando si stava peggio non ha poi tutti i torti visto come stanno andando le cose al Via Concerti d'Organo Santa Maria Nuova si parte con la performance verso il nazionalismo iberico è tutto per la rassegna stampa di oggi grazie per averci seguito vediamo ci vediamo questa sera alle 20 e 30 c'è il telegiornale occhio alla notizia ma vi ricordo che c'è sempre il sito internet molto visitato nonostante l'estate ma con gli smartphone ormai si è sempre collegati in rete occhialanotizia.it c'è anche l'applicazione che potrete scaricare da Apple Store o da Android da Google Play grazie mille per averci seguito e a voi tutti l'augurio di una buona giornata o da Android Grazie a tutti